Musica Si tuffa nel castellano e non torna in superficie, tragedia ad Ascoli, in corso le ricerche di un 17enne, vigili del fuoco e sommozzatori in azione nel letto del fiume. Papà, trovato morto al porto di San Benedetto, era in un'imbarcazione del circolo nautico a trovarlo un amico, affermo Gambiano aggredito a Lido Trearchi e in prognosi riservata. Vaccini, da domani le prenotazioni 12-29 anni, l'appello del medico aderite alla campagna, obiettivo sensibilizzare i giovani. Samb, Renzi paga gli stipendi alla squadra da scadenza e incertezza sul mezzo milione di contributi a saldo del debito sportivo. E ben ritrovati insieme con una nuova edizione del nostro TG Mark. Apriamo purtroppo con la pagina di Cronac il racconto di un ragazzo di 17 anni che si è tuffato nel fiume Castellano e non è più riemerso. Si cerca il giovane, sommozzatori e vigili del fuoco sono in azione, le ultime dal nostro Luigi Miozzi. Vigili del fuoco e sommozzatori dal pomeriggio di oggi cercano lungo il Castellano nei pressi della spiaggetta della cartiera papale il dieciassettenne di origine nordafricana che, intorno alle dieciassette, si è tuffato insieme ad un amico che era con lui al ridosso della cascata in un punto dove l'acqua è particolarmente profonda. Purtroppo, subito dopo essersi buttato, il ragazzo si è trovato in difficoltà, tanto che un amico si è tuffato per prestaregli soccorso. Ma il giovane, un attimo dopo, è scomparso sotto il pelo dell'acqua. Immediatamente sono scattati i soccorsi e di lì a poco sono arrivati i vigili del fuoco del nucleo SAF che hanno iniziato le ricerche che si sono dimostrate particolarmente difficoltose ed hanno coinvolto anche il nucleo sommozzatori arrivati da Ancona. Tragedia al porto di San Benedetto. Un 39enne è stato trovato privo di vita a bordo di un'imbarcazione ormeggiata lungo la banchina. Ascoltiamo il servizio della nostra Stefania Serino. Tragico pomeriggio al porto di San Benedetto dove si è consumata una tragedia al circolo nautico. Il corpo di un uomo è stato ritrovato senza vita all'interno di un'imbarcazione ormeggiata. La vittima è un papà di 39 anni. L'uomo non rispondeva alle chiamate ai messaggi da ieri e a fare la macabra scoperta è stato il suo amico proprietario dell'imbarcazione. Dopo l'allarme sulla banchina sono arrivati un'ambulanza del 118, gli uomini della Capitaneria di Porto e i carabinieri della scientifica che ora dovranno ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Non si esclude alcuna pista al momento dal gesto volontario al malore passando per l'overdose di qualche sostanza. A fare chiarezza saranno gli accertamenti che dovrà compiere il medico legale con la ricognizione cadaverica. Tante persone si sono riversate nel pomeriggio lungo la banchina del circolo nautico per capire che cosa stesse accadendo e perché ci fosse quella di spiegamento di forze dell'ordine. L'uomo era in procinto di diventare socio dello stesso circolo. Una persona tranquilla e socievole da ieri a pranzo non dava notizie di sé e i familiari non sapevano più dove cercarlo. Si era rifugiato nell'imbarcazione che l'amico gli aveva messo a disposizione e qui lo hanno ritrovato privo di vita. Un pakistano è stato arrestato dalla polizia ferroviaria di Ancona mentre stava salendo su un treno. L'uomo infatti doveva scontare sei anni di carcere per aver commesso abusi sessuali su un minore. Dopo la sentenza però emessa dal tribunale di Ascoli aveva fatto perdere le sue tracce ed era a tutti gli effetti un ricercato. I poliziotti lo hanno fermato mentre stava salendo su un convoglio diretto a Piacenza. È stato aggredito e abbandonato stamattina sulle scale di uno stabile. Parliamo di un giovane di origini gambiane. Il racconto di quanto accaduto nel servizio della nostra Donatella Lappa. È in coma. Intubato in pronto soccorso al Murri, il giovane è aggredito a Lido Trearchi e trovato dai soccorritori stamattina dopo le 6 sulle scale di uno stabile in via Tobagi a Lido Trearchi. L'uomo che non aveva addosso dei documenti è stato successivamente identificato dalla polizia. Si tratta di un gambiano di 23 anni, irregolare e con precedenti, già noto alle forze dell'ordine. Quando sono stati allertati i sanitari del 118 alle 6.15, il giovane è apparso subito in gravi condizioni a causa di lesioni craniche per essere stato picchiato violentemente e ripetutamente. Su quest'ultimo fatto di sangue avvenuto a Lido Trearchi indaga la squadra mobile di Fermo, che non esclude alcuna pista, anche se le ragioni dell'aggressione indicherebbero gli ambienti malavitosi del quartiere costiero. Intanto l'uomo resta in prognosi riservata e sarà trasferito nel reparto di terapia intensiva del nosocomio Fermano. E ora parliamo di vaccini. Da domani, 5 giugno, al via le prenotazioni 12-39 anni. L'appello del dottor Carducci di Ascoli ad aderire alla campagna. Stefania Serino. La campagna vaccinale anti-covid-19 prende in largo. Da sabato 5 giugno a partire dalle ore 12 sarà possibile prenotare il vaccino per la fascia di età 12-39 anni. La somministrazione avverrà nei punti vaccinali della popolazione sul territorio marchigiano. La prenotazione può essere effettuata attraverso il portale di poste italiane o tramite il numero verde 800-009966. Attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20. Un ulteriore passo in avanti per il raggiungimento della profilassi della popolazione, ha commentato l'assessore alla sanità Filippo Saltamartini. Mentre proseguono le inoculazioni ai giovani maturandi, abbiamo chiesto come sta andando nella città delle 100 torri. Allora, è uno step importantissimo perché anche se i giovani sono meno soggetti all'infezione grave da SARS-CoV-2, è importante vaccinarli per aumentare l'immunità di gregge e proteggere i soggetti più fragili. Quindi è uno step veramente importante. Verranno aperte le vaccinazioni tra i 12 e i 39 anni. Dai 12 ai 18 c'è un'indicazione ben precisa. Dai 18 in su verrà valutato poi caso per caso qui da noi, dai medici vaccinatori. Quindi è una tappa importante che va, cioè più gente aderirà alla vaccinazione e prima usciremo da questa situazione pandemica per ritornare un pochino ad appropriarci della nostra quotidianità. Marche e Abruzzo potrebbero ottenere un potenziamento della rete autostradale. Autostrade insieme al Ministero sta effettuando uno studio di fattibilità per risolvere i problemi annosi che affliggono gli automobilisti e autotrasportatori in A14. Da Porto Sant'Elpidio verso Sud si valuta l'opportunità di realizzare la terza corsia. Ad annunciarlo i deputati leghisti Tullio Patassini e Antonio Zennaro. In vista della stagione estiva, dicono, nel tratto tra Pedaso e Pescara verranno sospesi i lavori a partire dal weekend del 18-20 giugno nei fine settimana. La concessionaria ha finalmente preso l'impegno con il Ministero di elaborare uno studio di fattibilità relativo al potenziamento della A14 a partire da Porto Sant'Elpidio. E dunque si spera davvero in questa risoluzione. E ora parliamo di una situazione di totale stallo, quella dei lavoratori della Melania, calzature per bambino. Siamo a Magliano di Tenna dove oggi si è svolta una manifestazione di protesta. Per noi Donatella Lappa. Corteo dei lavoratori della Melania che sono partiti dalla bocciofila maglianese fino all'azienda per protestare contro la loro situazione diventata davvero tanto difficile insieme ai lavoratori, i sindacalisti della FICTEM CGL e della FEMCA CISL. La situazione, come potete vedere, è una situazione ormai drammatica. È una situazione che sta portando allo stremo i lavoratori. Sono lavoratori sostanzialmente fermi al palo sia nel lavoro che nelle retribuzioni da febbraio 2020. Sono lavoratori che stanno vivendo delle difficoltà anche pre-Covid. Il Covid le ha acuite, ma sono stati vittime di questa precarietà instabile che ha portato sostanzialmente al blocco delle retribuzioni, anche se pur minime, alla difficoltà di avere una prospettiva di ripresa per questa azienda, per l'occupazionalità di questa azienda, che è un'azienda storica per il territorio, un'azienda che ha dato molto lavoro e potrebbe dare ancora delle prospettive di occupazione per le famiglie di questi lavoratori. Una vicenda, quella della Milania Calzature per Bambino, che si perde nel tempo, ma ha subito un ulteriore stop dopo la vendita da parte della storica famiglia Gironacci a due holding abruzzesi. La vendita è stata perfezionata l'8 ottobre del 2020. La nuova proprietà è subentrata, abbiamo avuto diversi incontri, ai quali però purtroppo non c'è stato mai fornito un piano industriale di ripresa, per cui si possa sperare che questi lavoratori possano rientrare al lavoro nel breve termine. Con la nuova proprietà sono saltati anche gli accordi pregressi, come quello del concordato con i fornitori, cosa che lascia poca speranza ad una ripresa della produttività. Era in corso un concordato che poi è stato ritirato a fine marzo. Innanzitutto ci aspettiamo da parte della nuova proprietà che si rientri con i pagamenti dovuti ai lavoratori, perché qualcuno ha comunque continuato a venire in azienda e deve essere retribuito. Gli altri lavoratori che invece sono in cassa interazione ormai da troppo tempo e che hanno comunque maturato delle piccole spettanze, non sono mai stati retribuiti. Che cosa significa per lei tutto questo che lavora qui da oltre 30 anni? Una cosa brutta, perché finire questi pochi anni che sono rimasti per andare in pensione in questa situazione non lo pensavo mai. Lavoravamo tantissimo, 15.000 paia al giorno, all'improvviso a crollare così, non lo so il perché. Il cassa integrazione non arriva, tutti quei soldi che ci deve ancora dare, il TFR vecchio della ditta, insomma, ci troviamo in una situazione non bella. Con la vecchia proprietà come siete rimasti? Siete rimasti delusi? Sì, perché ci poteva dire qualcosa, ci poteva avvisare. E una manifestazione di protesta si è svolta ieri pomeriggio davanti all'ospedale di Pesaro per sollecitare la regione ad aprire un pronto soccorso pediatrico al San Salvatore. Aprire subito un pronto soccorso pediatrico all'ospedale di Pesaro, in attesa che venga ripristinato il Dipartimento Materno Infantile spostato a Fano per l'emergenza Covid. E quanto è stato richiesto alla regione Marche durante un sit-in di protesta organizzato davanti al pronto soccorso del San Salvatore, alla presenza di esponenti del centro-sinistra pesarese e alcune mamme. La sollecitazione è venuta dalle 600 mamme che ci seguono e ci sollecitano perché la difficoltà grossa è portare con i propri mezzi i bambini all'ospedale di Santa Croce di Fano. Poi per le diagnosi devono per forza essere riaccompagnati con l'autoambulanza Pesaro, per i referti devono essere riportati a Fano e se serve degli interventi chirurgici, obbligatoriamente devono essere riportati a Pesaro, quindi è una situazione insostenibile. Il reparto di Materno Infantile era stato chiuso oltre un anno fa per l'emergenza Covid. Ovviamente era necessario trovare posti letto per i pazienti malati di Covid. Oggi, da oltre un anno, la pandemia sta in qualche modo diminuendo. Quello che abbiamo chiesto in una prima battuta è avere garanzie rispetto alla possibilità di riaprire finita l'emergenza del reparto e da questo punto di vista ci sono state date. Quello però abbiamo chiesto poi nel secondo momento è che siccome passeranno mesi, se non un anno, prima del ripristino del reparto, abbiamo chiesto che venisse attivato un punto di soccorso pediatrico. Il punto di soccorso pediatrico, la cui risposta è stata negativa. L'assessore ha detto che verrà attivato solamente una volta che verrà ripristinato il reparto. Io invece penso che questo sia importante attivarlo in tempi rapidi perché non possiamo aspettare mesi o probabilmente anche oltre un anno prima che venga riaperto l'intero reparto. Ancora da sciogliere il nodo della individuazione del candidato sindaco nel centro-sinistra di San Benedetto e l'ex assessore Canducci invoca nuovamente le primarie. Sentiamo Stefania Serino che ci fa il punto dopo il summit che si è tenuto ieri sera. L'appello all'unità caratterizza la campagna elettorale sanbenedettese ma è proprio sull'individuazione del candidato sindaco che ancora non è stato sciolto il nodo dalla coalizione allargata di centro-sinistra. Dopo il summit del 2 giugno PD e Movimento 5 Stelle sono d'accordo sulla visione dello sviluppo urbanistico che prevede lo stop al consumo di suolo. Tema spinoso ma l'ex assessore all'urbanistica Paolo Canducci parla di incontro positivo mentre sulla scelta del candidato sindaco l'avvocato continua a suggerire le primarie. Ieri è stato innanzitutto positivo che dopo tanti mesi ci siamo rivisti, ci siamo incontrati, ci siamo confrontati, ci siamo detti le cose che riteniamo da ognuno dal rispettivo punto di vista che possono migliorare. Noi abbiamo ribadito la nostra posizione, ossia di volere fino all'ultimo secondo dell'ultimo giorno tentare di riunire il centro-sinistra. E abbiamo suggerito quello che riteniamo sia lo strumento più utile, vale a dire le primarie. Però abbiamo anche detto che siamo disponibili a ragionare su uno strumento diverso che ci dicono o che ci propongono loro. Dall'altra parte in realtà è stato evidenziato che stanno portando avanti un ragionamento con i 5 Stelle e che quindi vogliono portare a termine quel ragionamento e fare una coalizione larga anche con i 5 Stelle. In sintesi poi il segretario regionale del PD che era presente, mentre Ricci si è collegato solo all'inizio da remoto, il segretario a quel punto ha chiaramente detto che bisogna necessariamente trovare l'unità del centro-sinistra per poi confrontarsi con le altre forze compresi i 5 Stelle e per trovare l'unità del centro-sinistra. Se non è possibile fare le primarie occorre che le parti si confrontino su una rosa di nomi che comprende anche ovviamente il nome del sottoscritto e il nome della Bottiglieri. Rinascimarche ha chiesto il pieno riconoscimento della propria posizione e del ruolo di alleato senza subire imposizioni. Dall'altra parte PD, NOS e articolo 1 hanno ribadito due punti fermi. L'individuazione di Aurora Bottiglieri come candidata civica e l'alleanza larga che comprenda anche il Movimento 5 Stelle. Resta cauto il senatore Fede Pentastellato, abbiamo partecipato ad una serie di incontri sui punti programmatici ma ufficializzeremo la coalizione solo alla fine del percorso di confronto. Via libera del Consiglio di amministrazione della CIPA, il bilancio consuntivo che entro fine mese verrà portato all'approvazione dell'Assemblea dei Sindaci. La società che gestisce il servizio idrico è inoltre impegnata in investimenti strategici, che ci racconta Luigi Miozzi. Il Consiglio di amministrazione della CIPA ha appena dato il via libera al bilancio consuntivo che verrà portato all'approvazione dell'Assemblea dei Sindaci entro la fine del mese. La società che garantisce il servizio idrico nel Piceno chiude con un utile di circa 4 milioni di euro, un risultato positivo ma inferiore alle aspettative determinato in larga parte dai minori consumi di acqua a causa dell'emergenza sanitaria, dalle chiusure imposte soprattutto alle attività di ristorazione. Come spiega il presidente della CIP, Giacinto Alati. È chiaro che i utili rispetto al passato sono diminuiti in virtù del Covid. Noi abbiamo dovuto fare uno sforzo importante insieme a tutto il personale, quindi spendendo del denaro per garantire comunque da un punto di vista sanitario non solo la struttura nella sua intrezza e parlo per i dipendenti eccetera ma anche tutto quello che ne consegue e credo che posso dire tranquillamente di esserci insieme a tutti i dipendenti riuscito. Ma nel frattempo la CIP è impegnata nella programmazione di investimenti strategici per il futuro come l'acquisizione di una vasca della discarica per i rifiuti e la realizzazione delle nuove condotte idriche tra le quali il nuovo acquedotto del Pescara. Noi spendiamo 3 milioni di euro all'anno per la nettezza urbana. Di pari passo stiamo cercando di trovare soluzioni che ci facciano risparmiare perché se no in modo esponenziale aumenterà l'acqua, va detto. Dopodiché altra cosa se qualcuno vuole creare confusione in quella che non è stata una scelta ancora è una scelta di prospettiva ma è anche una necessità per evitare che gli utenti un giorno si trovino a pagare un'acqua come al bar. Voglia d'estate per il capoluogo di regione con la sindaca che spiega le strategie e si dice soddisfatta per il calendario di manifestazioni. Voglia d'estate anche per il comune di Ancona che sta perfezionando il cartellone per la città. Con tante iniziative, anche nuove rispetto al passato o implementate rispetto al passato è di pochi giorni fa l'inaugurazione di questa nuova iniziativa al Porto Antico, al Molo Rizzo che allieterà per tutta l'estate da giugno a settembre le serate non solo degli anconetani ma speriamo anche di nostri amici, di persone fuori città. Così come stiamo preparando un programmino estivo per il centro città, per i fini di settimana che può essere una cosa anche questo interessante. La sindaca spiega anche come ci si sta organizzando per la fruizione delle spiagge del capoluogo. Ci stiamo preparando anche allestendo le spiagge e i litorali. Le spiagge, parlare di spiagge in Ancona è un ragionamento un po' strano nel senso che uno la spiaggia se la immagina solo con la sabbia. Le nostre spiagge sono questa del passetto, sono Porto Novo, poi sono anche certo Palombina con le marino e torrette. Stiamo predisponendo quanto necessario, ho cominciato a funzionare l'ascensore del passetto che è una delle esperienze più belle che credo si possano immaginare e credo che sarà una bella estate. Tanta voglia insomma di ripartenza da parte degli anconetani come bene percepito da Valeria Mancinelli. C'è questa voglia che si capisce, la sento anch'io come ognuno di noi, c'è questa voglia, questo entusiasmo della ripartenza, di tornare alla normalità, c'è l'effetto rimbalzo diciamo così, anche psicologicamente. Insomma l'appello del sindaco tutto sommato questa volta comincia a essere davvero ottimistico. Sì, 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 guardi io fiducioso, ecco perché a me non piace particolarmente né l'ottimismo né il pessimismo perché sono in qualche misura un'estremizzazione di due concetti. Io dico un atteggiamento fiducioso perché realisticamente le cose stanno andando meglio. Presentati gli spot degli studenti delle scuole superiori al termine del progetto della provincia di Fermo, differenziamoci, che ha visto 40.000 euro di investimento per la sensibilizzazione delle tematiche per la tutela dell'ambiente. Si è concluso il progetto della provincia di Fermo legato alle scuole denominato differenziamoci che punta all'accento sulla raccolta differenziata, sull'abbandono dei rifiuti ma anche sulle energie rinnovabili. Anche quest'anno ci abbiamo fatta con un investimento anche più importante degli anni precedenti con 40.000 euro di lavoro. Abbiamo toccato con lavori diversi in base ai consulenti didattici a come ci consigliavano tutte le fasce diciamo scolastiche, quindi l'infanzia, la primaria, le medie, le superiori, ma è importante perché parliamo di un territorio, quello della provincia di Fermo, che negli ultimi sette anni ha fatto un balzo in avanti, ad esempio in termini di raccolta differenziata, di più 20%. A conclusione del progetto, la presentazione degli spot sull'ambiente realizzati dagli studenti delle scuole superiori del territorio, Litet Carducci, Liti Montani, il liceo artistico Preziotti di Fermo e il liceo classico Anni Balcaro. Siamo rimasti colpiti perché abbiamo visto lavori e concorrerebbero con premi per spot nazionali. Noi siamo convinti che il loro linguaggio, il loro modo di approcciarsi, a temi seri, possa essere la chiave giusta per la vera efficacia, la vera sensibilizzazione per tutti i cittadini quando vedranno questi lavori. Ad affiancare i ragazzi nel realizzare questi corti, che sono degli spot che possono essere utilizzati anche per la promozione delle tematiche ambientali, c'è stato il regista Giordano Viozzi, responsabile e coordinatore del progetto. Nella regione Marche abbiamo una carenza cronica di professionisti tecnici nel settore cinema. Non a caso con CNA Audiovisivi, Comitato Autori Cinema Marche, Agici, ci stiamo un po' promuovendo e impegnando a realizzare una filiera industriale cinematografica qui nelle Marche, perché secondo me c'è bisogno. Quindi se i ragazzi avessero la necessità, l'impegno e la voglia di impegnarsi in lavori più tecnici nel cinema, secondo me avranno sicuramente uno sbocco professionale garantito. L'opportunità di cimentarsi in lavori di cortometraggio e quindi in realizzazioni video può rappresentare per questi ragazzi anche una possibilità di sbocco dopo le scuole superiori, come è successo ad alcuni, partecipando ad ulteriori progetti della regione Marche. Questa è stata la mia prima esperienza con Giordano Giozzi, che è stato un mentore per me. Ho anche partecipato a questo secondo progetto della regione. La scrittura di questa sceneggiatura è stato ovviamente un nuovo territorio per noi, una nuova scoperta. Ci è molto piaciuto soprattutto non solo la scrittura della sceneggiatura, ma anche quella del soggetto, dove bisognava andare a fondo nella caratterizzazione dei personaggi. E sì, è stato un lavoro molto stimolante, sono molto contento. Il calcio, la Serie C, il neopresidente della Samba, Roberto Renzi, ha pagato gli stipendi da scadenza. Al momento non è ancora dato sapere se sono stati saldati i contributi. Ne va del salvataggio del titolo sportivo dei Rosso Blu e della categoria. Gli stipendi sì, i contributi no, anche se nessuno conferma ufficialmente. Di certo l'associazione sportiva San Benedettese è stata immatricolata in FIGC Marche. Richiesta regolare e pratica inserita a sistema oggi. Lo stadio di riferimento naturalmente è Riviera delle Palme e la sede per la corrispondenza coincide con lo studio dell'avvocato Chiara Schiavi. È solo il primo passo verso l'affiliazione. La società Rosso Blu, infatti, aspetta ancora che le venga assegnato un numero di matricola. Per quello è necessario concludere la partita del debito sportivo. A oggi non lo è ancora. Roberto Renzi, neopresidente Rosso Blu, ha pagato la squadra entro la scadenza odierna. Stipendi di febbraio, marzo e aprile, totale da circa 350 mila euro netti. Lo ha comunicato il legale dell'Associazione Italiana Calciatori al curatore fallimentare Franco Zazzetta. Il resto, invece, non sarebbe stato pagato. E il resto sono i contributi IMSS. I 511 mila euro reclamati dalla federazione, in base all'articolo 52 delle NOIF, le norme organizzative interne federali per le società fallite. Mentre Renzi stava provando a separare la scadenza. 134 mila euro relativi a marzo e aprile, prorogati dopo la richiesta fatta al giudice fallimentare Francesca Calagna, tramite curatori. Mossa che a livello civile ci può stare, ma non a livello sportivo. Come per i 377 mila, Renzi confida si possa applicare la sospensiva Covid. Adesso, però, la palla passa alla Covid, so che poi all'ufficio legale della FIGC. Sta a loro stabilire se la Samba può ritenersi ancora della partita oppure no. O al limite concedere altro tempo, fino al 10 giugno, quando il presidente della FIGC nazionale, Gabriele Gravina, dovrà decidere sul titolo sportivo. La Samba, insomma, resta appesa un filo. Beach Soccer, seconda convocazione nazionale per il Samba e le dettese. Luca Dari per lo stage della settimana prossima a Viareggio. Appuntamento propedeutico per europei e mondiali che si terranno nell'unica sede di Nazareth, in Portogallo, dal 17 al 27 di giugno. Nuova convocazione per Luca Dari nella Nazionale Trenale Beach Soccer. Luca, si riparte per una nuova avventura ora che si riprende a pieno regime in questo sport? Sì, dopo una lunga pausa ripartiamo. Già siamo ripartiti la scorsa due settimane fa con Raduna a Viareggio e ce ne sarà un altro per cui sono stato convocato da lunedì al sabato prossimo. Gli obiettivi di questa stagione per la Nazionale Trenale Beach Soccer quali sono? Gli obiettivi sicuramente sono prossimi. Infatti a metà giugno sarà la qualificazione per l'europeo e la qualificazione per il mondiale che si terrà ad agosto in Russia. Conti di esserci? Speriamo, l'obiettivo è quello e ce la metterò sicuramente tutta per arrivarci. Senti Luca, riparte il Beach Soccer anche nella Nazionale, la San Mertese Beach Soccer che deve difendere i titoli conquistati nella passata stagione. Sì, perché nel 2019 siamo stati campioni d'Italia quindi dovremmo difenderci con tutte le nostre forze. Ripartiamo, la squadra, il ministro e la società stanno costruendo un ottimo organigramma e speriamo di riportare a casa anche quest'anno qualche titolo. E anche per questa edizione è tutto, io vi ringrazio per essere stati con noi, vi auguro un buon proseguimento, arrivederci. Ripartiamo, la squadra, il ministro e la società stagione